Ciao a tutti dal Salutatore, una grandissima sorpresa per me in primis, eccomi qui con il vincitore ragazzi di Ballando con le stelle, io ho tifato per te Gilles. Grazie, lo so, lo so, il Salutatore è sempre in prima linea, porta fortuna. Grazie. Buongiorno ragazzi e a presto. Ecco qui, più di questo che sono emozionato per te perché te lo meriti come ho scritto, detto dappertutto. E questo saluto per tutti i tuoi fan e le tue fan che ti supportano. Grazie mille. Ci vuole tutto. Ciao, grazie Gilles.